Musica Arriva in consiglio il resoconto dell'attività svolta nel corso del 2023 dalla garante dell'infanzia e dell'adolescenza ad illustrarla in aula il Presidente della Commissione Affari Istruzionali Una proposta di risoluzione che nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta dal garante si impegna a sostenerne le attività e anche a procedere quanto prima ad un'opera di revisione della normativa dedicata appunto al garante per l'infanzia È stato un anno intenso quello del 2023 per quanto riguarda l'attività del garante che si è ancora una volta concentrata su tutte le funzioni tipiche che il garante assume rispetto alla tutela dei minori nel territorio regionale Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti nel territorio regionale che connotavano l'attività del garante come ad esempio il progetto che si è concentrato sul tema dell'autismo nei minori e in ogni modo è proseguita l'attività del garante della dottoressa Bianchi sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale sia per quanto riguarda l'attività seminariale in particolare il contributo portato dal garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità Al termine del dibattito l'Aula esprime con un voto a maggioranza 20 sì, PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e 4 astenuti l'apprezzamento per il lavoro svolto L'Aula approva anche con voto unanime una proposta di risoluzione collegata presentata dalla Lega che chiedeva la riattivazione quanto prima dell'ambulatorio della continuità assistenziale pediatrica presso l'ospedale Meyer Molto soddisfatti, il garante dei minori la dottoressa Bianchi è una persona seria molto preparata e anche molto appassionata del suo ruolo sta facendo un lavoro immenso e anche con una carenza di organico che ormai è endemica a cui nessuno provvede e che invece dovrebbe trovare una soluzione anche questo corso che lei ha fatto per questi nuovi tutori di minori non accompagnati svolge una funzione fondamentale questi nuovi tutori svolgono dei bellissimi percorsi di accompagnamento nei casi che gli sono stati affidati Il garante dell'infanzia sta lavorando bene mette in evidenza anche qui delle pecche che sicuramente esistono la garante dell'infanzia manca sempre cioè lei dice sempre che gli mancano persone gli manca personale per poter fare quello che vorrebbe fare d'altra parte si deve fare con quello che abbiamo a disposizione in ogni caso direi che il lavoro è un lavoro incommiabile per quello che ha potuto fare Il tema dell'infanzia è un tema che ci sta particolarmente a cuore siamo preoccupati perché consideriamo che negli ultimi tre anni c'è stato un calo demografico importante meno di 17.000 minori in Italia e in Toscana e per quanto riguarda anche la povertà relativa c'è circa il 10% dei ragazzi toscani che sono in condizioni di povertà relativa noi vediamo un garante per l'infanzia un po' distaccato con una sua sorta di autoreferenzialità a volte ripete le stesse identiche pagine nel corso della sua relazione lo vorremmo molto più presente in Toscana ci sono delle segnalazioni una parte corposa nella relazione circa 220 anche per argomenti molto seri come l'inadeguatezza degli ambienti scolastici c'è le tariffe massime per autobus e per menza che addirittura hanno portato molti bambini a chiamare scuole però non vediamo dei dati aggregati non capiamo poi da dove provengano questi dati quindi c'è da lavorare sicuramente per mettere anche più personale a disposizione di queste figure per poter operare meglio a un anno dall'insediamento del nuovo comitato regionale per le comunicazioni avvenuto nel giugno 2023 il presidente Marco Meacci traccia un primo bilancio dell'attività che ha avuto fra i primi obiettivi quello di una presenza capillare sul territorio regionale abbiamo inaugurato questo tour questo core con tour in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPI e che ci ha permesso di venire in contatto con tante realtà sia degli operatori dell'informazione ma delle istituzioni, delle scuole, delle imprese in modo da far conoscere i tanti servizi e tante attività che il core con svolge poi abbiamo fatto vari momenti formativi in vista della par condicio con l'ordine dei giornalisti chiaramente è stato uno degli impegni maggiori degli ultimi due mesi della campagna elettorale e il core con ha svolto una funzione di vigilanza di controllo per garantire il pluralismo e l'equilibrio in particolar modo anche per quanto riguarda la comunicazione istituzionale in gran parte poi ci sono stati adeguamenti spontanei da parte delle varie amministrazioni per cui un rapporto molto di collaborazione e di interazione poi abbiamo messo in piedi varie iniziative, vari bandi A settembre aggiunge il Presidente avremo importanti appuntamenti In particolar modo a fine settembre, inizio ottobre ospiteremo un convegno nazionale organizzato insieme ad Agicom su tutto il tema delle conciliazioni telefoniche che è uno dei grandi settori di maggiore impegno del Corecom e poi faremo gli stati generali dell'informazione abbiamo già dato l'incarico a IRPET di fare un'indagine conoscitiva e recognitiva su tutto il sistema dell'informazione in Toscana e poi anche rispetto alle conciliazioni fra l'altro sottolineo che in questo anno sono stati restituiti oltre 800 mila euro ai cittadini e alle imprese attraverso le conciliazioni l'83% si è divenuti a degli accordi attraverso questa fase però vogliamo far conoscere sempre di più questo servizio che non sempre i cittadini conoscono che è un servizio gratuito che Corecom svolge per cui sulla falsariga del Corecom Tour poi faremo anche una specie di concilia web tour in Toscana Sul fronte dell'educazione poi è stato potenziato il progetto del patentino digitale nelle scuole medie della Toscana che ha formato quasi mille studentesse studenti e che adesso è stato scelto da Agicom come a livello nazionale Agicom ha assunto il patentino digitale questo importante progetto del Corecom della Toscana come una delle migliori pratiche forse la miglior pratica a livello nazionale infatti anche a livello europeo poi a settembre ci sarà una delegazione che in accordo con Agicom verrà a studiare proprio il modello toscano per cui in questa chiave in qualche modo queste esperienze stanno così assumendo una dimensione che va oltre i confini regionali ma che appunto sono un punto di riferimento più ampio Assieme ai membri del Comitato il Presidente del Consiglio regionale e la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio che esprimono apprezzamento per il lavoro svolto Sia per le attività ordinarie importanti che il Corecom svolge a tutela delle cittadine e dei cittadini sia anche per le tante iniziative che hanno portato avanti penso al patentino digitale nelle scuole penso alla voglia alla capacità di essere andati su tutti i territori della nostra regione un impegno che non era usuale che dà il senso del profondo radicamento e della voglia di ascoltare e di confrontarsi con tutti Il Corecom è un po' un fiore all'occhiello delle nostre attività istituzionali e voglio davvero ringraziare tutti perché l'obiettivo che noi ci diamo è fare in modo che ogni singolo cittadino da chi vive nel comune più grande a chi vive nel borgo più piccolo possa avere accesso agli stessi diritti e credo insomma il lavoro del Corecom in questi anni si stia andando esattamente in questa direzione ha interpretato le esigenze che erano emerse durante la riflessione nella quinta commissione specialmente sul punto del far conoscere meglio ai cittadini e alle cittadine toscane quali sono i loro diritti nel campo della comunicazione e dell'informazione e far conoscere loro che cos'è il Corecom e quanto il comitato può essere utile a loro per far valere i loro diritti in più è continuato il lavoro strenuo di media education con i più piccoli, con i più giovani grazie anche alla collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e tutto il resto del lavoro prezioso che il Corecom fa per tenere alta l'attenzione sulla responsabilità che richiede comunicare e raccontare la realtà e su tutta la gestione del contenzioso per quanto riguarda le informazioni e le telecomunicazioni Si parla di attività estrattiva in Toscana di Piano Cave con due informative in aula dell'assessore Baccelli due vicende che nascono da un lato dal contenzioso di due aziende in provincia di Livorno che hanno portato alla necessità di una variante al Piano Cave per l'obbligo di dare attuazione alla sentenza e poi c'è il tema della variante non sostanziale al Piano Regionale per l'aggiornamento degli obiettivi di produzione sostenibile Alcuni comuni e alcune industrie estrattive hanno infatti manifestato la necessità di aumentare le potenzialità estrattive e hanno chiesto di rivedere il dimensionamento del Piano Regionale La variante così prevede incrementi del fabbisogno contenuti nel 5% Si parla di circa 9 milioni di metri cubi nell'arco di 20 anni La nostra posizione è una posizione favorevole perché si tratta di una proposta che non è una variante al Piano Cave ma è una variante attuativa di un dispositivo del Piano Cave Piano che assieme alla legge 35 sono stati ritenuti comunque un passo in avanti significativo anche verso la sostenibilità di questa attività che è appunto impattante sicuramente ma anche necessaria Noi abbiamo presentato una risoluzione collegata dove chiediamo alla Giunta di procedere però alla concertazione con le associazioni con le categorie prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5% che ripeto non va a modificare i perimetri delle cave non prevede apertura di nuove cave altrimenti non sarebbe una variante semplificata ma sarebbe stata una variante sostanziale poi abbiamo anche chiesto che non si faccia questa attribuzione al materiale lapido e quindi non si incida sulle cave del marmo perché per quello che ci risulta l'esigenza di un aumento dimensionale e di utilizzo dei materiali è soprattutto legato all'esigenza dei materiali industriali quindi le IAE e gli EGS cioè tutti quei materiali che sono necessari e saranno necessari per fare soprattutto anche lavori pubblici legati al PNRR d'accordo anche Italia Viva che vede approvare all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivare percorsi di partecipazione siamo convinti che l'attività edilizia in Toscana l'attività delle infrastrutture l'attività delle opere pubbliche meriti e necessiti un aggiornamento di un piano che già all'epoca noi avevamo contrastato in termini politici perché ritenevamo che i riferimenti presi come punto di partenza della quantitativi dei materiali da poter scavare fosse un punto di riferimento errato come tale si può adeguare si può migliorare si può fare qualcosa di più chiediamo che nel farlo questo avvenga con un atto che abbiamo depositato coinvolgendo le associazioni di categoria Criticità sono state espresse dal Movimento 5 Stelle Il piano cave dovrebbe distinguere le cave dove si estraggono materiali di pregio come il marmo dalle altre cave dove si estraggono materiali per la costruzione evidentemente di bassissimo pregio soprattutto perché il materiale che viene estratto dalle cave delle Alpi Apuane negli ultimi 30 anni è aumentato a dismisura questo vuol dire che lo sviluppo industriale di questo settore non è certo a vantaggio di un territorio anche perché ricordo che il materiale viene esportato direttamente grezzo e non più lavorato dovremmo anche capire come la giunta intende esplicare questa estrazione sostenibile perché l'estrazione sostenibile a nostro avviso non esiste soprattutto nel materiale lapideo che evidentemente non ricresce quindi c'è una contraddizione in termini non c'è un no pregiudiziale all'aumento dell'attività estrattiva dicono le opposizioni Lega e Fratelli d'Italia fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni perché da quello che abbiamo visto le situazioni di incremento potrebbero riguardare diciamo situazioni limitate e quindi vorremmo capire se c'è un interesse generalizzato in quali limiti o se tale non fosse anche alla luce di quello che abbiamo proposto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e cioè di rivedere il piano regionale del Cabe Per quanto riguarda l'idea di ampliare del 5% la possibilità di escavo del totale si tratta quasi di 9 milioni di metri cubi noi non siamo pregiudizialmente contrari ma abbiamo richiesto con un apposito atto di indirizzo approvato dal Consiglio che ci sia la più ampia partecipazione possibile e quindi il coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso i tavoli di concertazione delle associazioni ambientaliste comunque rappresentative del territorio insieme agli enti locali per la ricaduta diretta che questo comparto ha naturalmente sul paesaggio e sull'ambiente in modo particolare delle apuane ma non solo e infine il coinvolgimento del Consiglio regionale attraverso le commissioni competenti seconda e quarta per un'istruttoria ancora più approfondita della modifica del piano che ricordiamo è un piano molto complesso è stato approvato nel 2019 modificato nel 2020 e che necessita anche di una valutazione ambientale strategica proprio per l'impatto che ha sul territorio di un'istruttoria di un'istruttoria di un'istruttoria per l'impegare e il'istruttoria